Ah, in tutto questo mi è capitato anche una cosa particolare, mi sono sognato, un sogno sempre molto particolare, su Myro Accademia, che mi chiedo ma perché mi sono messo a sognare a Myro Accademia, che non ho né visto di recente robe inerenti a Myro Accademia né mai mi sono, come dire, non lo so, non è che ci ho mai pensato in queste ultime settimane a Myro Accademia, però boh, mi sono sognato a Myro Accademia. Ero io, insieme, era, è ambientato a casa mia, cioè ambientato nell'androne del mio palazzo, tipo dove ci sta il giardino e l'androne del palazzo, e praticamente ci stavamo io, altri due tizi cattivi, non ricordo se uno di questi due tizi era overhaul, però ho qualche reminiscenza del fatto che fosse overhaul ma non era, probabilmente, comunque due tizi cattivi, che stavamo tutti e tre contro Deku, cioè contro Deku Deku, e questo è quello che mi ricordo, cioè mi ricordo pure qualche combattimento, in particolare c'era uno di questi tizi cattivi, perché in realtà il sogno è molto confuso, una volta ero io, una volta era questo, non mi ricordo, però che usava le piante, mi ricordo c'era questo tizio che usava tipo le, cioè le piante, non so che paragone posso farvi, però, proprio, comandava tipo le piante, cioè le radici, robe, lanciava, non, cose di questo tipo, e ho questo ricordo, e poi mi pare che inizialmente abbiamo la meglio contro di lui, contro Deku, e poi però verso la fine del sogno si ribalta la situazione e lo prendiamo nel culo, però io ero tipo un misto tra spettatore esterno e partecipavo all'azione, cioè ogni tanto facevo qualcosa, ogni tanto in realtà non mi si inculava nessuno e stavo dietro e guardavo, quindi non so bene, però mi ricordo che eravamo noi tre contro Deku, quindi sì, un bel sogno particolare, poi durava pure tanto, cioè il combattimento era bello intenso, figo, figo. Cioè, questi sogni qua, mi piacerebbe tanto poterli in qualche modo registrare, pagherei oro per poter rivedere alcuni di questi sogni qua, perché sono proprio strani, cioè sono proprio robe ambigue, particolari, tipo la tizia, sì sì, tipo la tizia della prima B con i capelli fatti di piante, sì, tipo lei, tipo lei. Poi è partito You Say Run, no, allora la cosa che è successa, vabbè a questo punto finiamo questo discorso su My Hero Academia, la cosa che è successa è che dopo vari scontri siamo riusciti a sconfiggerlo a Deku, cioè l'abbiamo catturato, l'obiettivo era catturarlo, mi pare, l'abbiamo catturato, ma mentre stavamo per uscire dall'androne di casa mia, dove c'è stato quel cancello dove passano le macchine, mi accorgo che, io proprio, mi accorgo che qualcosa non va, cioè mi accorgo che c'è qualche problema, probabilmente tipo un'imboscata, e alla fine cerco di avvisare il tizio che io penso sia overhaul, ma non lo so se era lui, cerco di avvisarlo, e lui tipo ci aveva in custodia Deku, e gli dico, oh, cioè, sta attento, gli dico qualcosa, ma non mi si caga, e finisce il sogno, perché poi vengo svegliato brutalmente, avrei voluto sapere come andava a finire, ma no, perché sono stato svegliato, e finisco il sogno che, tipo, stavano arrivando gli altri eroi, o che cazzo, ne so, era tipo un'imboscata, scata, quindi probabilmente non sarebbe finita bene, però, sì, più o meno è andata così, inizialmente vinciamo, poi nel finale, quando stiamo per andarcene, arriva qualcuno a rompere i coglioni, ma non sapremo mai chi è.